Cirano Bellotto Tradito da una spia Teolo 1923 San Michele di Mondovì 1944 Di Andrea Oliveri Così impari a fare il partigiano. Furono le ultime sprezzanti parole che il tenente Attilio Rizzo riservò a Cirano Bellotto prima della fucilazione il 30 dicembre 1944 in quel di San Michele di Mondovì piccolo comune in provincia di Cuneo. Cirano Bellotto combatteva nella zona del Basso Piemonte e Alta Valle Bormida a fianco della divisione autonoma del Maggiore Mauri quando venne catturato dalla divisione Cacciatori degli Appennini dell'esercito repubblicano fascista su segnalazione di una spia il 27 novembre a Torre Mondovì tradotto a San Michele dopo essere stato torturato venne condannato alla pena capitale. Al parroco Don Giuseppe Pennino il compito di accompagnarlo nelle sue ultime ore. Mi rincresce morire così giovane disse durante la confessione senza piangere né imprecare. Dopodiché chiese come ultimo desiderio di poter scrivere qualche riga alla fidanzata e alla mamma. Il soldato di guardia si affrettò a procurargli due fogli con busta e una matita e una volta slegato iniziò a scrivere «Cara mamma, prima di morire invio a te papà e famiglia a tanti baci. Non voglio che sia sparsa una lacrima di sangue per me. Il Dio mi protegge. Ora e sempre. Vi faccio i miei migliori auguri». Al termine piegò gli iscritti, li chiusi in una busta e aggiunto l'indirizzo li porse al parroco. Dopo essere stato nuovamente legato venne condotto sul luogo dell'esecuzione, nel cortile della chiesa. Mentre i soldati lo legavano a una sedia disse a Don Pennino che perdonava chi stava per fargli del male e voltandosi al plotone raccomandò loro che mirassero giusto per non farlo soffrire troppo a lungo. Questi commossi glielo promisero e fecero fuoco. Seguirono due raffiche. L'Ave Maria e grido «Viva l'Italia!» furono le sue ultime parole. Oggi a San Michele di Mondovì sorge una lastra commemorativa in ricordo del suo sacrificio per il riscatto, l'onore e la libertà della patria nella lotta contro i nazifascisti. è un'azienda d'un pillo di prenlazzi. Chissà, d'un pillo di prenlazzi. Sao i nazifascisti. Grazie a tutti.